Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a Cannes, giornata di sole splendente, faremo questa mattina il giro della città, pomeriggio invece andremo all'isola di Santa Margherita che si trova qua davanti. Buona giornata a tutti! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Eccoci tardi, stiamo andando alla spiaggia di Juan de la Pen, particolare caratteristica per la sua bellezza. Stamattina il tempo non bellissimo, il pomeriggio si è aperto, molto ventilato, però ci gustiamo la giornata animale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS